William, Kate e il loro bambino, tutti i riflettori sono puntati sulla coppia reale per raccontare ogni loro mossa, ogni singulto nel piccolo principe dal sangue blu. Ma che tipo di genitori saranno William e Kate sicuramente più moderni e meno legati al vecchio protocollo? William sarà il secondo papà nella storia della famiglia reale ad essere presente al parto. Il principe Charles, quando sono nati William e Harry, era presente ma prima di lui non era mai successo. Il principe Philip, ad esempio, giocava a squash quando nacque il figlio Charles. Sappiamo da tempo che William e Kate sono una coppia molto moderna e la nascita del loro figlio è uguale a quella di tutte le altre coppie. William si è preso un paio di settimane di congedo di paternità e Kate sarà una madre molto più presente di quanto accadeva in passato quando i figli venivano lasciati nelle mani delle bambinaie. Diana Spencer è stata la prima a rompere con la tradizione reale di affidare i bambini alle bambinaie. Lady D voleva passare più tempo possibile con William e Harry per far vivere loro un'infanzia simile a quella degli altri bambini. Anche Kate proviene da una famiglia, diciamo normale, seppur molto benestante. Probabilmente dovrà affrontare gli stessi problemi di Diana. Saper crescere ed educare i figli come una donna normale sarà la vera sfida di Kate. Un tentativo che si scontrerà forse con la necessità di rispettare gli impegni reali. Impegni che renderanno difficile essere sempre al loro fianco. Sarà uno shock culturale per lei e credo che si creeranno delle tensioni. La prima difficoltà, riuscire a coniugare il ruolo di madre, è quello di personaggio pubblico. Ovviamente si sta aprendo una nuova era per la monarchia. Il bambino che nascerà molto probabilmente erediterà il trono solo fra molti, molti anni. La maggior parte di noi neanche si immagina il momento in cui diventerà re. È qualcosa di molto lontano. La giovane coppia è ormai abituata a vivere sotto la luce dei riflettori. Tutti li seguono e vogliono sapere tutto di loro. Sono il volto glamour della monarchia britannica e la loro immagine è quello della corona britannica nel mondo intero. Un marchio che verrà ancora più esportato in futuro.